bene siamo qua con un francesco monchiero della monchiero carbone vedete i loghi sulla maglia quindi è super logato e anche presidente del consorzio del di tutela del roero ma questo oggi in veste invece campagnola come vedete dall'abbigliamento siamo nel nel vigneto più importante della della zona si può dire quindi il renesio che tra l'altro ha comprato con una storia curiosa non so se la vuoi raccontare se no comunque raccontaci questo questo vigneto che è molto bello scenografico perché poi magari girerò la telecamera e vedrete anche quanto pendente quanto anche vicino alla città di canale grazie giancarlo si è questo per me è stata una grande soddisfazione poter avere la possibilità di acquistare un vigneto sulla collina di renesio anche perché ci sono gli iscritti nella libreria del castello di canale che raccontano che nel 1478 su proprio su questa collina di renesio si era differenziata una nuova varietà di uva che era un'uva bianca che poi con il tempo si chiamò venne a chiamarsi arneis quindi diciamo questa è la collina che ha dato in atalia l'arneis che per noi produttori roerini è una diciamo delle nostre due gambe portanti assieme al nebbiolo che comunque è coltivato anche egregiamente in altre zone diciamo dell'albese del piemonte e anche del nord piemonte mentre l'arneis diciamo per ora è ancora diciamo un gioiello tutto nostro nasce appunto come vi ho detto qui in quel con quelle date quando io ho avuto la possibilità nel 2003 di acquistare questo terreno diciamo che non me lo sono perso non me lo sono perso perché è una diciamo dei delle colline più alte del roero e ho voluto piantare l'arneis solamente arneis anche se la nostra vigna ha un'esposizione sud sud ovest in punto a una collina se l'avessi detto a degli anziani una volta mi avrebbero chiesto se ero matto a non piantare nebbiolo come sappiamo le posizioni migliori sono sempre state riservate al nebbiolo tra l'altro il vecchio proprietario che era un orefice appunto del comune qui di canale aveva addirittura tolto i vecchi vigneti acquistati da vecchi proprietari perché per fare questo piccolo appezzamento di un ettaro e mezzo lui addirittura aveva dovuto comprare da otto diversi proprietari aveva piantato nocciole quando ho visto quello gli gli dissi che avrei comprato questo appezzamento ma il giorno dopo avrei remesso la vita e lui è stato molto contento siamo e siamo andati avanti la curiosa curiosa di questo vigneto è stato quando appunto ho avuto l'occasione di acquistarlo stavo mettendo su casa con con la con mia moglie da poco che stavamo insieme a un certo punto ho dovuto rinunciare a qualcosa della casa nuova ho dovuto rinunciare alla cucina per acquistare questo vigneto e disse a mia moglie che con questo vigneto ci saremmo comprati poi una cucina più bella questa è un po la curiosità sicuramente le uve arnaise che arrivano da questo da questo vigneto sono delle uve che sono adatte per produrre un arnaise molto corposo con i classici profumi del roero ma soprattutto si riesce ad avere un vino che dà la possibilità di essere longevo nel tempo come ben sapete negli ultimi anni l'arnaise ha dimostrato l'arnaise che nasce in roero di poter essere apprezzato anche ben oltre la soglia dei fatidici 3 4 anni ma si può arrivare anche ad apprezzarlo con delle ottime maturazioni anche oltre dieci anni ecco francesco se ci vuoi fare una panoramica molto rapida invece di quella che la la differenziazione di vigneti che avete voi come azienda che comunque avete un bel parco vitato e naturalmente non solo il renesio ma altri menzioni di tutto rispetto soprattutto giocando su diverse tipologie naturalmente rosso e bianco una velocissima panoramica insomma molto fortunati io come azienda nasco con i vigneti che ho ereditato dalla famiglia monchiero sulla collina di monbirone tra l'altro la collina di monbirone è sempre stata evitata solamente a barbera perché un'altra produzione molto importante della zona del roero è assolutamente la produzione barbera d'alba quindi in realtà io comincio l'azienda nel 1990 con una vigna con una vigna di barbera successivamente ho aggiunto altri vigneti prima all'inizio in affitto altri comprati terreni sulla menzione geografica su che oggi la menzione geografica del roero dove produco il nostro roero giovane la versione più più giovane successivamente sempre all'interno della vigna sul rio e abbiamo acquistato il vigneto printi quindi sempre la menzione su noi ma abbiamo questo vigneto printi invece con un terreno carcare argilloso che ha bisogno di più invecchiamento per arrivare sulle tavole e poi quando abbiamo cominciato a spostarci da canale siamo approdati nel comune di priocca dove abbiamo dei terreni che sono molto forti e siamo all'interno del crue bricco genestreto che è un crue molto molto importante un crue molto argilloso che dà proprio origine a dei vini rossi veramente molto molto longevi e diciamo l'ultimo gioiello che abbiamo aggiunto alla nostra collezione di ottimi crue è nel comune di vezza che è appunto la menzione geografica pioiero che abbiamo cominciato a lavorare solamente da due anni e quindi i risultati si potranno cominciare a vedere poi tra cinque o sei anni da quello che potrà venire fuori comunque vezza normalmente è un comune con terreni molto sabbiosi quindi ci aspettiamo di avere dei vini sia bianchi che rossi molto eleganti con dei profumi primari che ricordano appunto il roero bene ti ringrazio molto l'invito è a venirvi a trovare a questo punto grazie mille